La nostra Costituzione fornisce ai cittadini che vogliono partecipare alla vita politica del Paese degli strumenti. Tali strumenti, e parliamo di referendum abrogativi, consultivi o propositivi, si trovano anche negli statuti comunali, ma sovente restano inutilizzati o inattivi. Nello Statuto Comune di Pomigliano, ad esempio, si trovano dal 2000, ma nessuna amministrazione ha ancora emanato i regolamenti attuativi che permetterebbero la partecipazione dei cittadini. Il Movimento Pomigliano 5 Stelle nelle prossime settimane raccoglierà delle firme per una petizione, il cui scopo è proprio permettere ai cittadini di abrogare o esprimersi su delle delibere e proporre delle istanze all'amministrazione che poi dovrà discuterle. Se per caso la nostra petizione non dovesse essere considerata, ci sono gli estremi per un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. I ragazzi del Movimento di Napoli hanno ottenuto un grande risultato lo scorso aprile, quando hanno fatto approvare in consiglio i regolamenti attuativi e quindi ora gli cittadini napoletani potranno partecipare alla vita politica tramite gli strumenti di democrazia diretta. Teniamoci in contatto su pomigliano.org e se anche tu vuoi raccogliere le firme, scarica il modulo dal sito e segnalacelo. Grazie 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 Grazie